si è partito? poteva legare con filo di acciaio questi gambi vai mettisi la pietra metti la pietra perfetto vai, prendi prima Agnello che facciamo con quel gaccio lì? perfetto piano guardate le gocce che vanno giù guarda il viso la mattiera che è spettacolare ha detto sempre interessante, fantastico, ma il gusto come è super il gusto non prepari è super è la mia impressione guarda vedi, è normale, un'oretta credo che sarà guarda vedi, è un'oretta credo guarda vedi, è un'oretta credo guarda vedi, è un'oretta credo che vedi guarda vedi, è un'oretta credo che la